Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Prima di andare a vedere le nuove sfide che ci attendono nella giornata di oggi Vi voglio parlare di che cosa sta succedendo in merito alla questione del piccone minti Infatti sembra che Fortnite abbia messo un comunicato che costringe tutti i rivenditori di GameStop A dare i codici per questo piccone solo ai clienti che effettuano degli acquisti di ordini di 10€ o superiori Quindi ovvio che ora dovremmo andare ad acquistare un prodotto targato Fortnite Quindi con licenza ufficiale Fortnite acquistando un qualsiasi cosa, un Funko Pop, una maglietta, dei portachiavi Purtroppo ora no perché questi portachiavi costano 4€ quindi dovrete acquistare 3 portachiavi Perché dovete fare uno shop un ordine minimo di 10€ o superiore Ma diciamo che in tutto questo la notizia è pure positiva perché non è ovvio che all'interno dei vostri GameStop oggi trovate questi codici Perché ieri io ho girato tutti i GameStop di Roma, guardate quanti codici sono riuscito a trovare, me li sono fatti davvero tutti E tutti i GameStop avevano un blocchettino minimo di 30 codici Quindi credo che già nella giornata di ieri questi codici siano finiti almeno per Roma in tutti i GameStop Io come sapete ho già iniziato a regalarli, infatti nella live di ieri e l'altro ieri ne ho già regalati 5 Non sarà l'unico modo per ottenere queste card, questi codici per i picconi perché ci saranno anche delle novità riguardanti ai video Infatti all'interno di questo video apparirà da un momento all'altro per un decimo di secondo il codice per ottenere questo piccone Perciò guardatevi tutto il video e guardatevi anche tutti gli altri video che escono alle 7 di mattina Perché molto probabilmente potrete trovare un codice per riscattare questo piccone Ci saranno anche delle estrazioni su Instagram, comunque se volete partecipare ai contest che sto facendo Vi lascio scritto qua sotto quali sono le fasi, quali sono i passaggi da eseguire per poter partecipare a questo contest Quindi mi raccomando seguite sempre i video delle 7 di mattina e andatemi a seguire su Instagram perché partiranno dei contest a sorpresa Ma passiamo alle sfide che dovremmo andare ad affrontare oggi, come al solito ve le dico in anticipo Questa settimana sono davvero easy stra easy Nella prima challenge dovremmo andare a cercare 7 forzieri all'interno degli avamposti eco Infliggi danni agli avversari durante la guida di una barca a motore Dovremmo andare ad eseguire 500, ad infliggere 500 danni agli avversari in rissa squadre Questa challenge si fa easy stra easy La prossima challenge sarà leggermente più complessa rispetto a tutte le altre Infatti ci chiede di visitare gli avamposti eco Io qui in game già mi trovo all'interno di un avamposto eco Già in un video ve ne ho parlato, ve l'ho fatto vedere In pratica sono delle locazioni all'interno della mappa Ce ne sono mi sembra 6 o 7 Io mi trovo all'interno di un avamposto Comunque uscirà un video dettagliato al riguardo Quando usciranno le sfide Perciò se siete nuovo iscrivete a questo canale e attiva la campanella delle notifiche Almeno non ti perderai questo video e riuscirai a farlo nella maniera più semplice in assoluto Dovremmo andare a arrestare i nostri compagni di squadre in 3 partite diverse In questa challenge non vi consiglio la modalità arresta squadre ma vi consiglio squad o duo Cerca scatole di munizioni in diverse città nominate È molto molto semplice perché le città nominate sono appunto queste city che hanno un nome Quindi le città principali Dovremmo andare a cercare 7 scatole di munizioni Nella prossima challenge dovremmo andare a curare i nostri compagni tramite un bazooka benda Gli dovremmo dare 200 punti salute molto molto easy se effettuata a rissa squadre Ritorno alle eliminazioni infatti dobbiamo andare a eseguire 3 kill all'interno di scogliere scoscese oppure borgo bislacco Nella penultima challenge dovremmo andare a riavviare un nostro compagno di squadra Anche per questa challenge ci sarà un video dedicato almeno vi faccio vedere tutti i punti di riavvio all'interno della mappa di fortnite Nell'ultima challenge di questa settimana 5 dovremmo andare a fare 7 assist Infatti dovremmo hittare un po' tutti i player e aspettare che i nostri compagni di squadra li vadano ad eliminare Easy stra easy Eccoci arrivati io già mi trovo in posizione mi aspetto di trovare di tutto dopo l'uscita del demogorgone nello shop di ieri Mi aspetto anche di trovare ironman nello shop ormai Perciò 5 4 3 2 1 Andiamo Successo Vincidore eh Uh ha vinto Pino Difensore dei boschi E quindi ci troviamo nello shop Eccolo Andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo Novità Skin Ma dov'è la skin No ci credo dai la novità è il piccone Ma dai Con le mani impastate nel miele è uscito fuori Mielachete Questo piccone Andiamo a sentire il suo sound Sottile, lineare, pungente 800 V-Bucks per lui Secondo oggetto in evidenza Uh è tornata la skin di questa femmina con i tatuaggi neon Abbiamo due stili per lei Eccoli qui Una senza tatuaggi neon E una con i tatuaggi neon 1500 V-Bucks per lei ci viene fornita con questo backpack Carino ma non troppo Abbiamo anche questo è molto molto più figo Anche qui due stili Uno tatuaggi neon E uno senza neon nei tatuaggi 1500 per lui ci viene fornito con questo backpack In una versione tale quale Solo che questo è verde rispetto al precedente che era rosa Andiamo a vedere per completare il set O meglio continuare il set Abbiamo luce frammentata Questo piccone da 800 V-Bucks Andiamo a sentire il suo sound Bello fresco Bello croccante Piccone da 800 V-Bucks Continuiamo sempre con lo stesso set Abbiamo un mega pipistrello Andiamo a sentire il suo schieramento So fresh 800 V-Bucks per lui E concludiamo il set con questo piccone ascia vivida Andiamo a sentire il suo sound Tosto Tosto Ignorante Cafone Piccone da 500 V-Bucks Uuuuh Guardalo qui chi è tornato Biascico SR Punto E' da novità che non vedevo sta skin Se non sbaglio 2000 V-Bucks per lei Ce l'ho fornita con questo backpack Che è davvero molto molto figo Andiamo a vedere sicuramente Troveremo tutto il set Abbiamo anche Biascico Junior Punto Il suo piccone di raccolta Andiamo a sentire il suo sound Curioso Molle Gelatinoso 1500 V-Bucks Per lui E ovviamente Chiudiamo il set Con questo deltaplano Era uno dei primi deltaplani leggendari Biascico Laser Davvero molto molto figo Con questo puntamento 1500 V-Bucks Per lui Andiamo a sentire il suo schieramento Croccante Passiamo a quelli che sono per oggi Gli oggetti giornalieri Abbiamo Ombra Ammantata Questa skin da 1500 V-Bucks Non mi fa impazzire Troviamo Ritroviamo di nuovo Falcistrello E mezzo falcetto E mezzo pipistrello 100% Falcistrello Andiamo a sentire il suo sound Pungente Deciso Misero 800 V-Bucks Per lui Uuuuh Rinnegato È la nostra skin da 800 V-Bucks Non male questa skin Molto basic Molto slime Molto figa 800 V-Bucks Ci potrebbero anche stare Nella fila sottostante Gli oggetti giornalieri Per oggi troviamo Slarp Questa copertura Che è animata Ed è molto molto carina Invasa dalla Slarp Non male Figo Vediamo qui Ok sul veicolo Non mi piace tanto Ma sullo scar Sì 700 V-Bucks Per lei Prima emote di oggi Incrocio Vai dritto al punto 500 V-Bucks Per lei Seconda emote Ed ultima Per lo shop real Posa del cactus Questa ovviamente Ce l'ho 200 V-Bucks Bomba Bomba Best emote ever E concludiamo lo shop di oggi Con difensore dei boschi Non ti posso aiutare Che paura Google Che paura Vi stavo dicendo Concludiamo lo shop di oggi Con difensore dei boschi In arte Pino Eccola qui la nostra skin Che abbiamo votato Per farla apparire All'interno dello shop Ce l'ho fornita Con questo zaino Che figo 1200 V-Bucks Per lei Signore il video finisce qui Mi raccomando Un bel like Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Condividelo con tutti i vostri amici E rimanete sempre aggiornati Sul mio canale Perché potrebbe uscire Da un momento all'altro Un codice Per il nuovo piccone Minty Ci vediamo più tardi Con i video dedicati Delle serie di oggi E mi raccomando All'interno dello shop Rasco Trattino basso O-M-G Il codice più fresco Del centro d'Italia A più tardi E Le belle Mesami